Se a Campobasso c'è il teco vorrei a creare un'atmosfera struggente, a esernia il silenzio a caratterizzare la processione del venerdì santo. Le preghiere e i canti intonati dal coro della cappella celestiniana contribuiscono a dare l'idea del dolore causato dalla morte di Cristo, ma sono soprattutto i passi silenziosi dei fedeli a trasmettere il senso di pentimento e sofferenza. E poi ci sono gli incappucciati, simbolo della penitenza. I cappucci che coprono completamente il volto, le croci portate in spalla, le corone di spine e i piedi nudi di alcuni contribuiscono a creare un'atmosfera di forte suggestione. Tocchiamo con mano la devozione, quella che è fatta anche di un culto esteriore, dove devo riconoscere ammirato, ormai questo è il terzo anno, e dove il popolo partecipa nel silenzio che è, diciamo, segno di un raccoglimento e nella preghiera. Che poi tradizionalmente, ecco, nel percorso durante la processione ci siano anche, ecco, persone o simboli che richiamano ulteriormente alla tradizione popolare. Questo penso appartenga un po' a tutte le città del Morise. Porto veramente nel cuore è il segno di questa devozione, di questa partecipazione di tutto il popolo. Anche quest'anno la città ha partecipato in massa alla processione, a fare da apripista, come sempre, le confraternite di Santa Maria del Suffragio, di Sant'Antonio, del Santissimo Rosario, del Santissimo Sacramento e della Fraterna, a seguire l'Unitalsi e la Gesci, la banda e il coro, il clero, quindi la statua del Cristo morto e dell'addolorata, i portatori di statue, il gonfalone di Serni alle autorità e infine un fiume di gente. C'è chi ha fatto tutto il percorso, chi solo in parte e chi è atteso a bordo strada. Negli ultimi anni le presenze sono aumentate sensibilmente. Nelle sedi delle confraternite si fa la fila per chiedere di far parte del gruppo degli incappucciati. L'uomo torna alle considerazioni profonde, serie e paradossale, però è così, proprio nei momenti di sofferenza. Allora questa sofferenza, così a livello planetario, probabilmente sta riconducendo la persona umana a considerare i fondamenti e le ragioni e le motivazioni del proprio esistere. Io da dove vengo? Perché ci sto? Dov'è che sono incamminato? Sono domande di senso molto profonde, ma sono domande di senso religioso. E allora pure per quanto ci si voglia industriare a misconoscere i valori religiosi, però l'uomo non è fatto di solo pane, disse Gesù, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio.